Una parola sull'Italia e la crescita. Io credo che sia molto importante convincerci che la insufficiente crescita dell'Italia negli ultimi 10-15 anni prima di tutto è esistita, cosa che è stata negata fino a un po' di tempo fa, che ci fosse un vero problema di crescita insufficiente in Italia, invece è stato così, adesso l'abbiamo a nostre spese collettive visto in faccia questo mostro della mancata crescita. Ma credo che non basterà poco tempo per quanto brillanti possano essere i governi che succederanno a quello attuale e ai quali andrà grande parte del compito di costruire la crescita dell'Europa, perché la nostra scarsa crescita deriva da peculiarità culturali del nostro Paese.